Salve a tutti ragazzi, qua è il Valto 16 e oggi siamo in una nuovissima recensione di un film del 2018 che non attendevo particolarmente, di cui però nutrivo abbastanza curiosità, curiosità malsana come mi piace chiamarla a me, perché è il sequel di un film che a sua volta era il sequel di altri film, i primi due film di questa saga erano meravigliosi, poi è arrivato il terzo che faceva veramente schifo e il quarto che mi ha lasciato abbastanza perplesso, perché per quanto all'epoca lo trovai comunque quantomeno decente mi fece abbastanza cagare per molte cose, moltissime cose, troppe cose, e questo ne è il sequel, il sequel che speravamo tutti fosse migliore del primo e credo che molti lo sperino ancora, io ho una mia opinione riguardo a questo, di cui adesso ne parleremo bene, comunque sto parlando di un film del 2018, per la regia di Giovanni Antonio Bagliona sto parlando di Jurassic World, il regno distrutto, quando mi piace fare la pausa di Jurassic World, il regno distrutto, mi piace un po' fare le pause così, lasciamo perdere, comunque Jurassic World di Regno Distrutto, progetto ambiziosissimo, sequel del fortunato fin del 2015, appunto Jurassic World che ha cassato mi sembra un miliardo e 671 milioni al botteghino worldwide, di cui 650 solo in Nord America, quindi una cosa come un miliardo e sì, 30 qualcosa, milioni all'estero, quindi un gran successo, va detto, un gran successo, veramente, perché c'era la nostalgia dinosauri, cioè c'era la, sai, chi è cresciuto, anche come me, io ovviamente, sì, non proprio nel senso della parola, perché sono comunque nato negli anni 2000, però anch'io sono cresciuto guardando Jurassic Park, perché comunque, cioè nel 2008, non lo so, io il primo mi sembra, io mi sembra che la prima volta che ho visto il primo Jurassic Park era il 2008, sicuramente non era appena uscito un altro Jurassic Park, cioè il 3, se non sbaglio, era il 2001, 2002, 2003, non mi ricordo, comunque nel 2008 quando vedi il primo Jurassic, o forse addirittura prima, nel 2008 quando vedi il primo Jurassic Park, sì, era il 2008, non mi ricordo. Comunque, cioè, ci sono cresciuto, l'ho visto, mi è piaciuto un casino, ho visto il secondo, che mi piacciono ancora di più, il terzo, che va bene, non mi piacciono, però comunque c'erano i dinosauri, cioè, c'è cresciuta più di una generazione con Jurassic Park, e sembra giusto dare a nuove, a nuove, nuove generazioni di crescere sempre con questi cinzi dinosauri. Il problema è che, principalmente il problema di Jurassic, del primo Jurassic World era un nome, ed è Colin Trevorrow, quello che l'ha diretto e scritto. Il problema del primo Jurassic World è che è pieno di minchiate, e Trevorrow è semplicemente uno dei raccomandati più pagati di Hollywood, perché purtroppo Steven Spielberg, lo zio Stevie, che nonostante sia uno dei miei registi preferiti, è un coglione quando fa queste cose, perché ha deciso di assumere quel deficiente di Trevorrow, che aveva fatto un film decente, Safety Not Guaranteed, che però non aveva scritto nemmeno lui. Ma cos'è che gli ha fatto fare? Gli ha fatto firmare un contratto per tre film. Poi Trevorrow non ha diretto il secondo perché l'ha solo scritto, perché avrebbe dovuto scrivere e dirigere Episodio 9 di Star Wars. Qual è stato l'unico problema? Che probabilmente ha presentato una sceneggiatura talmente di merda alla Disney, che si è rifiutata di farglielo fare! È stato licenziato dalla Disney senza avere neanche iniziato il film! Cioè, ma veramente? Ma non ho parole! E quindi Trevorrow nel primo Jurassic World ha firmato una sceneggiatura veramente scandalosa. C'erano dei momenti che io non avevo parole, ma porca puttana, delle minchiate veramente porose. Il Regno Distrutto è sempre scritto a Trevorrow insieme a Derek Connolly e ne parleremo dopo. Però c'è una differenza già molto grande tra il Regno Distrutto e il primo Jurassic World. E ve la dico subito, la regia è di Juan Antonio Bagliona. Il Juan Antonio Bagliona è un grandissimo esperto e un grandissimo regista. Ha diretto film come The Impossible con Ewan McGregor e Naomi Watts, mi sembra fosse Naomi Watts, che è quello sull'uragano, mi sembra comunque, sì, sull'uragano che colpisce questa città, non mi ricordo dove. Ha diretto anche The Orphanet, che ha detto di tutti a un horror meraviglioso. Ha diretto Monster's Call, un film fantasy, ma non proprio, un fantasy dramma, diciamo, che io purtroppo non ho visto, ma che... perché proprio il fatto che in Italia è passato un po'... cioè non l'ha visto molta gente, l'ha visto quasi nessuno. E mi è dispiaciuto, infatti lo recupererò il più presto possibile. E Bagliona cosa fa? Fa la cosa che non l'ha fatto Trevorrow, dirige il film come Dio comanda. Infatti credo che la regia di un Juan Antonio Bagliona, in Giurassicurati e Regno Istrutto, sia una delle regie che si avvicina di più alla perfezione per quanto riguarda la regia di un blockbuster. Non è perfetta, ci sono dei movimenti di camera che forse non avrei fatto, in alcune scene non mi sono piaciuti molto alcuni movimenti di camera che Bagliona fa, ma è quasi perfetta, c'è una regia che c'ha le inquadrature che madonna ero lì. C'è veramente delle scene pazzesche dal punto di vista registico di Juan Antonio Bagliona. E quindi è una cosa che mi ha reso felicissimo, perché è tornata una grande regia e ve la butto lì. Secondo me la regia di Bagliona è anche più bella della regia di Spielberg nel primo Jurassic Park e nel secondo Jurassic Park. Ovviamente i mezzi sono diversi, qua ci sono anche dei mezzi migliori per fare delle riprese, quindi cose che magari quando girarono il primo Jurassic Park negli anni 90, mi sembra, non c'erano effettivamente certe macchine per fare certe riprese che fanno, c'era meno CGI. Un altro punto da cui parlare, la CGI. Perché ne dobbiamo parlare? Semplicemente perché la CGI del primo Jurassic Park faceva veramente cagare, c'era proprio fatta male, ma male proprio male. I dinosauri si vedeva lontano un mio che erano finti e no, no, no e no. Qua invece nel Regno Distrutto i dinosauri hanno deciso di usare gli animatronics e è una scelta azzeccatissima, un po' per tornare alle origini come nel primo Jurassic Park, un po' perché erano stati molto criticati per la questione della CGI. Questo non gli ha impedito rifare un'altra CGI di merda, perché credo sia la lava più brutta che abbia mai visto, cioè una lava fintissima come non so cosa, veramente una cosa assurda, però comunque la CGI è nettamente migliorata rispetto al primo, ma molto anche. I personaggi non aggiungono di più a quello che era già stato aggiunto nel primo, il personaggio di Owen Grady, interpretato da Chris Pratt, è comunque un bel personaggio perché mi piace Chris Pratt e forse è quello un po' più approfondito tra il primo e il secondo film. Il personaggio di Claire, interpretato da Bryce Dallas Howard, figlia del grande Ron Howard, registratato di solo, Star Wars Story, che è stato adorato, è stata brava ma neanche così tanto, cioè lei è bravina, ok, però anche il personaggio si fa un po' fatica a empatizzarci, non lo so, non è un gran personaggio quello di Claire. Poi abbiamo altri personaggi come il cattivo, interpretato da Rafa Spall, o il banditore d'asse, interpretato da Toby Jones, scopriamo poi il personaggio del socio segreto di Hammond, questo Stockwood, poi abbiamo anche, non lo so, la bambina di nome Macy, non i personaggi tipo quello interpretato da Justice Smith, Franklin, che è un personaggio che ho odiato, o il personaggio di Zia Rodriguez, mi sembra che si chiami, Zia proprio come nome, non è Zia, no, Zia Rodriguez. Quindi tutti i personaggi che effettivamente non aggiungono molto alla pellicola, ma a parte forse appunto Owen Grady, quindi il personaggio di Chris Pratt, Scott, ma forse alla fine un po' al loro scopo servono, non lo so, vi dico già che la bambina che si chiama Macy è sicuramente la bambina migliore di tutta la saga di Jurassic Park, tranne per una cosa alla fine. Appunto, adesso arriviamo a parlare del tasso dolente di questo film, la sceneggiatura. La sceneggiatura di Trevor e Connolly è buona, fino a un tot. Ero disposto a passare sopra molte minchiate, perché mi stavo divertendo, e queste minchiate sono quelle minchiate tipiche da Jurassic Park, tipo la scena d'apertura, che è diretta magistralmente alla Bayona, ma che è molto una minchiata, è comunque una minchiata da Jurassic Park. Quindi è una minchiata da Jurassic Park che ho apprezzato e che mi ha divertito, perché stavo crepando da ridere, e tuttora ricordarmela crepo da ridere per la scena iniziale. Però era un po' una minchiata, ma ci passi sopra queste minchiate. Il problema arriva negli ultimi 40 minuti, perché le due super rivelazioni degli ultimi 40 minuti fanno cagare, sono come un mare di merda che viene addosso, perché? Perché una rivelazione riguarda la bambina, e ci può anche stare, se non per il fatto che non cambia un cazzo nel film per quello della rivelazione, è una rivelazione buttata a casaccio, ma proprio totalmente a casaccio, che non cambia nulla, non è inutile, non ti dà nulla, dici, ah oh sì, quindi eh... Poi? Basta. Serve solo per apparecchiare poi la minchiata più enorme, che è quella del finale, che è proprio uno dei peggiori finali che abbiamo visto in un film. Ma ne parleremo poi, perché non saprei come dirvelo bene senza spoilerare. Diciamo che il fatto di quello che succede è una minchiata enorme, perché si va proprio contro, cioè, boh, è proprio un finale fatto male soprattutto, fatto male. Vabbè, devo dire che comunque c'è una fotografia veramente fantastica, usata benissimo, e mi è piaciuto molto come ha gestito il personaggio di Blue, l'ha gestito molto bene, Blue è l'ultimo raptor rimasto sulla terra, quella che è stata allevata da Owen, e mi è piaciuto molto come hanno utilizzato il personaggio, è ben utilizzato all'interno della pellicola, nonostante la sua rilevanza non è che gli venga data così tanta, cioè non è che diventa uno dei protagonisti insieme a Grady, non aspettatevi un film tipo Arma Letale con loro due protagonisti, cioè, per farvi un esempio. Invece mi è aiuto ancora di più come hanno utilizzato l'Indoraptor. L'Indoraptor è il super dinosauro ibrido nuovo che viene mostrato nel trailer, che non viene mostrato del tutto, per fortuna, perché nella pellicola cosa migliore dell'Indoraptor è il fatto che non venga mostrato tutto subito. L'Indoraptor te lo fanno pregustare, te lo fanno aspettare, infatti prima ti fanno vedere i progetti, cioè ti fanno vedere il progetto di DNA, poi piano e piano ci fanno vedere l'ologramma, ma non un ologramma gigante bene, che te lo fanno vedere bene, ma un ologramma piccolo, un po' scarso, che non si riesce mancò a vedere benissimo, e poi ti dici, eh, deve essere figo, deve essere figo, e poi c'è la scena in cui viene presentato, che è magnifica, e lui fa veramente paura. Ed è utilizzato benissimo perché alla fine del film si ritorna un po' alle vesti horror della saga di Jurassic Park, in questo posto con un po' cunicoli ristretti, comunque zone ristrette con l'Indoraptor che gli insegue, loro che devono scappare, uno ritorno molto a loro, e c'è una cosa che mi è piaciuta moltissimo, e ho visto gente in sala che saltava veramente, quindi funziona, ve lo dico io, funziona perché ho visto gente in sala saltare, e sì, io l'ho visto tra l'altro in IMAX, e devo dire che l'IMAX l'ho usato tantissimo, è stata una cosa puttana troia, sarà meravigliosa, veramente una cosa incredibile, soprattutto nelle scene di tensione, veramente, la musica, proprio l'ambiente, come ha gestito il tutto, aveva l'IMAX, sappiamo che è una cosa tra la madonna. Non saprei come andare avanti, comunque questo era quello che pensavo, senza spoilerare, riguardo a Jurassic World, il regno distrutto, alla luce di tutto questo il mio voto per la pellicola non può che essere un sei più. Però sono deluso perché vi dico la verità, io prima degli ultimi dieci minuti sarei potuta arrivare anche qualcosina in più, non dico magari un sette, un sette e mezzo, però forse un sette meno sì, ma in verità forse anche al sette, a dire la verità, ma diciamo che prima degli ultimi quaranta minuti al sette sì, no diciamo trenta credo, non lo so, comunque prima degli ultimi trenta minuti al sette sì, sì, prima degli ultimi dieci minuti al sette meno. Quindi però il mio voto ci sono stati gli ultimi dieci minuti, non posso ignorarli, il mio voto è un sei più. E vabbè, io sto per spoilerare qualcosina perché ci sono molte scene che mi sono piaciute veramente tante di cui vorrei parlarne, quindi tra tre, due, uno, benvenuti nell'area giurassicamente spoilerosa del valto 16. Sopprimete Colin Trevorrow per l'amor di Dio per il finale, ma ci arriviamo, prima vorrei parlare della scena iniziale che mi ha fatto crepare da ridere, che è praticamente quelli dei militari che devono recuperare, militari comunque che lavorano per il cattivo interpretato da Rafa Spall, che tra l'altro è stato un cattivo efficace, devo dire la verità, non è stato nulla di incredibile, però comunque è stato un cattivo secondo me efficace nel suo scopo, che fa solo una minchiata alla fine, però va benissimo. E no, il problema vero e proprio secondo me dell'inizio, che è un po' troppo scemo, ma comunque è in stile Jurassic Park, perché vediamo appunto i militari che devono recuperare un osso dello scheletro e l'indiaminus rex che è nel fondo del mare, perché ricordiamo che se l'ha mangiato il super dinosauro acquatico quello è uscito così, se l'ha portato in acqua e l'ha mangiato, e quelli che vanno a recuperarlo, insomma il giblerotono così, dicono, eh tranquillo, intanto sarà morto da un po' questo coso qua, ma la mia domanda è, non lo so, allora, quelli sulla terra sono tre anni, sono passati, sono ancora vivi e devono cacciarle le cose. Il super dinosauro acquatico che sta in acqua, è lì con 3.000 pesci, non deve nemmeno cacciarle perché si gira per la bocca ne mangia almeno una ventina, no, almeno una cinquantina. Perché dovrebbe essere morto? E infatti questi qua fanno una brutta fine, ma non è tanto quello quanto al fatto che poi quello che invece gli stava aiutando a chiudere le porte e poi quello che noi hanno passati, praticamente è lì che sta stiamando, ragazzi, intanto quelli dietro l'elicottero, vedi che lo chiamano, vieni, 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 e loro, e lui, cosa, non mi sento, non mi sento, allora, se ti fanno vieni, non ti stanno provando a dire qualcosa, ti stanno dicendo vieni qua perché c'è qualcosa, lui si gira, si trova il tirannosauro dietro che lo insegue, e allora lui inizia a correre, loro partono, gli lanciano la scaletta, lui riesce ad attaccarsi, il t-rex strappa un pezzo di scaletta, ma lui rimane attaccato al resto, e vedono che esultano, se è grandissimo, se è, se, esce il dinosauro con l'acquatico dall'acqua, azzanna la scala, la stacca, e vieni l'elicottero che se ne va via, intanto quella si è mangiato l'uomo, e la scaletta, e vieni quella sconvolti, tipo, oh cazzo. È una scena ignorantissima, però in perfetto stile Jurassic Park, un po' come quella del tizio che viene mangiato sul cesso durante il primo Jurassic Park, cioè, perché ti metti su un cesso con un tirannosauro che sta, però fa ridere, cioè, è una minchiata che fa ridere e funziona, quindi va bene, finché è così va bene, e nel film ce ne sono tante di minchiate di questo tipo, ma ripeto, finché sono così funzionano, la scena di quando si svelano che i cattivi sono quelli la che prendono i dinosauri e quasi muore il personaggio di Grady perché lo lasciano lì tranquillizzato e quasi muore anche Blue, tranquillizzato nel senso che mi mettono un tranquillizzante, quasi muoiono anche Claire e Franklin, io speravo morisse Franklin, quel ragazzo di colore che è il comic relief, che è veramente una cosa assurda, mi sono sui coglioni, e molto bello perché poi tutto nella fuga loro riescono a scappare infiltrandoci nella nave, e poi succede una cosa che veramente ti distrugge, vedi uno dei dinosauri del gran collo lungo Erbivori, che probabilmente è uno dei pochi rimasti sull'isola, uno di tanti rimasti sull'isola, scusate se posso parlare, che si avvicina un po' al porto, guarda così, un po' viene da piangere, un po' a pensarci, guarda la nave, ma ormai è troppo lontana, la nave praticamente vedi le nube e il vulcano che ha eruttato che lo assorbono all'interno di questa nube di fumo, senti i lamenti del dinosauro che muore evidentemente, un po' ti distrugge questa cosa, un po' ti distrugge, ed è una scena veramente toccante cazzo, cioè comunque un po', torni un po' bambino e pensi, quindi non lo so, non lo so, non lo so. E il punto sta nel fatto che poi tutto quello che succede ci sta anche che il film poi si è ambientato praticamente in due location, l'isola e la villa del signor Stockwood che non sapeva nulla di questa cosa che in verità i cattivi, quindi anche il cattivo il padre Raph e Spall volevano prendere i dinosauri per venderli, in verità lo sapeva solo lui, solo il personaggio di Raph e Spall che non mi ricordo neanche come si chiama, e quindi sostanzialmente vediamo, quindi questo personaggio che non sa neanche se sono ancora vivi Claire e Owen, ma loro riescono ad arrivare lì introducendosi nella nave, salvano blu e tutto, arrivano alla villa. Dalla villa in poi inizia la vendita dei, inizia la vendita dei dinosauri e vediamo cifre incredibili, roba che a un certo punto della serata sono già cifre tipo 100 milioni e quindi con solo 3 dinosauri, cioè forse una media di, non lo so praticamente quella di 35 milioni al dinosauro quasi, soldi in meno ovviamente perché però come dice che i primi due gli hanno pagati 35 milioni e l'altro 30, cioè cifre incredibili, forse addirittura con due dinosauri erano già 100 milioni. Poi però fanno questa cosa, presentano intanto Claire e Owen sono riuscite ad evadere, hanno incontrato la bambina a mesi, che ha trovato una foto dal diario del signor Stockwood che intanto è morto perché aveva scoperto gli intrighi del cattivo interpretatore Rafa Spars e cosa ha fatto il personaggio di Spars? L'ha ucciso, per non farlo sapere alla bambina, prende il diario e scopre e vede questa foto di quella che dovrebbe essere la madre con la sua tata e capisce e vede che sono identiche, dopo ne parliamo perché. E lì io già ho capito, e lì avevo già capito, però vabbè, ne parliamo dopo. E quindi fanno vedere questa piccola presentazione che non si può comprare, però lo fanno vedere e arriva l'Indo-Raptor, che è entrato dall'Indominus Rex e il Raptor. E troviamo questo incredibile essere molto più grande di un Raptor normale, non grande come un Indominus Rex, ovviamente, non è un gigante dinosauro. È, diciamo, un'altezza non media, ma un pochino di più, che però iniziano a fare offerte incredibili. Di nuovo parte direttamente da 20 milioni, no? È così, e si arriva una cifra altissima. Quando può succedere il casino? Il dinosauretto piccolo che va aiutato a scappare Owen e Claire, quello con la testa che c'ha qua, sembra che abbia un sasso che sfonda tutto di più, praticamente inizia a entrare nella sala e tirare testata da tutti questi avidi ricconi figli di puttana. E quindi è divertentissimo, perché poi scappano tutti, ma non tutti tutti. E da qua inizia un po' il delirio, perché cosa succede? Dicono, portate via l'Indo-Raptor, arriva Owen, che era Owen che tra l'altro aveva fatto entrare il dinosauro nella stanza, che gli vieta riuscire a portare via l'Indo-Raptor, perché arriva e fa fuori un paio di amici tirando i pugni, il calcio e tutto. Poi arriva lì e ve la blocca. Scappano tutti. Scappano anche Owen, Claire e la bambina. E incontrano le cattive... Vabbè, iniziano a scappare. Arriva il cacciatore, quello che aveva aiutato a liberare, a prendere i dinosauri dall'isola. E qua iniziano i momenti stronzi. Perché? Succede una cosa che, ok, in verità ci può anche stare il fatto che l'Indo-Raptor si liberi per colpa di quel tipo lì. Perché? Lui si avvicina alla gabbia dell'Indo-Raptor e gli dice Ah, chissà, tu non ti ho visto sull'isola. E lo assordisce con due tranquillanti. Poi entra nella gabbia per provare a staccargli il dente. Perché lui stacca il dente di rinotauri per farsi, credo, una specie di collano o una cosa così. Ma l'Indo-Raptor non è addormentato, è ancora sveglio. E lui sente dei movimenti. Dietro l'isola si gira e non trova nulla. Però... Cioè, io lì avrei già capito che era sveglio, sarei uscito. Vabbè, non lo fa. E quindi si riprova, però vede la cosa che si muove. Quando si rigira per riguardare... Dopo aver visto la cosa si rigira. L'Indo-Raptor si alza, gli morde il braccio e lo solleva proprio dal braccio mentre glielo morde tutto. Credo che la scena sia stata lievemente tagliata. perché è un... Se non sbaglio, dalla versione americana e italiana si sono ritagliate alcune cose, piccoli frammenti perché erano troppo violenti. Che non è quella, secondo me, perché il minimo sarebbe dovuto uscire tanto lì con il sangue per far paura perché proprio lo prende mordendo il braccio e lo solleva in alto. Ma no, una scena... Comunque crudissima, eh. Comunque violentissima. Ma il problema non sta nel fatto di lui che libera l'Indo-Raptor così. Perché ci sta. È in linea col personaggio. È in linea con le minchiate che potrebbe fare quel personaggio. Il problema è il fatto che ci sono ancora quattro persone nella stanza oltre a lui. Il banditore là, interpretato da Toby Jones, e altri tre tizi che volevano comprare che sono nascosti nell'ascensore. Ma ci sta perché se non sanno il codice dell'ascensore non possono tornare su, non possono scappare. Però già un dubbio mi viene. Gli altri sono scappati tutti. Perché voi siete bloccati in quella futura stanza? L'Indo-Raptor era chiuso nella gabbia. Perché voi siete ancora dentro l'ascensore e non siete scappati da qualche altra parte? Ma soprattutto, perché Toby Jones è nascosto sotto quel fottuto coso per fare il bandir l'asta, quella merda lì? E lui scappa nell'ascensore quando l'Indo-Raptor si libera. Prova a premere i pulsanti e tutto. Ma l'Indo-Raptor, che è intelligente, tira una codata a quello per aprire l'ascensore, si apre e si ciba. E anche tanto, perché li trova tutti e quattro lì, che non scappano, fanno un cazzo, evidentemente direi che fanno una bruttissima fine quei giovini... mica tanto. Non era per niente giovini. Intanto Owen, Claire e la bambina incontrano il partivo e la Vepass che rivela che la bambina è un clone. Perché? Perché questa puttanata clamorosa? Perché? Perché è una puttanata clamorosa che Trevor e Conan le volevano inserire? Ma ci sta anche. Ma a dire la verità ci sarebbe stato anche. Fa capire che l'uomo gioca a fare Dio. Cioè lo fa capire di più. Ma il problema è il fatto che è inutile come cosa. Perché non torna più. Non ce ne frega un cazzo. Serve solo per apparecchiare il finale di merda. E poi ci saranno tutte le scene di combattimento con l'Indo-Raptor. Bellissima la scena che uccidono l'Indo-Raptor di Owen e Claire che provano a uccidere facendolo sfondare le vetrate di questa veranda. Non saprei come dire comunque. Però non ce la fanno perché lui riesce a rialzarsi nonostante il vetro sfondato sotto di lui. Ma arriva Blue che praticamente gli salta addosso dopo che c'è stato il combattimento nella stanza della bambina che ha fatto vedere tutto praticamente nel terzo trailer. E praticamente Blue gli salta addosso, la sbatte contro il vetro che cade e vedi l'Indo-Raptor che rimane infiltato tra le corna di uno scheletro, di un tricerato, quelli per bellezza. Poi cosa succede? Vanno nella zona delle gabbie dei vari dinosauri e scoprono che praticamente quando Blue era scappato aveva causato un'esplosione che aveva fatto partire dell'acido a vapore nella stanza e che sta per uccidere tutti i dinosauri. E che l'unico modo per farli vivere sarebbe liberarli. Però bisognerebbe aprire la porta e tutto e... Vediamo Claire che è lì per lì per farlo, ma non lo fa. E tu gli dici... Una cosa decente, no! Però arriva la bambina che preme il pulsante, gli fa uscire e dice... Loro sono vivi come me! Ma porca puttana! Saranno vivi come te quanto vuoi! Ma non mangia le... Ma tu non mangi le persone, cazzo! Io vi giuro! Non è un film che mi ha fatto incazzare, ma quella scena sì! Che cazzo vuol dire loro sono vivi come me? Sì! Sei un cazzo di clone! Loro sono dei cazzo di cloni! Bravi, bravi! Sì, ma tu non mangi le persone! Tu non mangi le persone! Loro sì! Io gli dico... No! 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 Cioè, no! No! Non so che cazzo dire! No! Vediamo i dinosauri che iniziano ad andare liberi e tutto! E la minchiata è! Pensa prima a quello che fai! Cioè... Va bene, loro sono vivi come te e tutto! Non facciamoli morire! Vabbè! Poi è bluca! È intelligente! Comunque quando dice vieni con me! Vede che c'è lì una gabbia e blufa! Cioè... Non è che fa così! Però capisci che se ne va perché non vuole! Intanto il cattivo interpretato da Rafa Spalas che provava a portarsi via l'osso dell'Indominus Intanto credo che il cinese sia ancora scappato! Bidi Wong di merda! Lì il dottore... Dottor Wu... Come cazzo? Dottor Wu... Non mi ricordo come cazzo si chiama ma credo sia scappato ancora! E praticamente arrivano tutti i dinosauri, si nasconde sotto la macchina, esce fuori per prendere l'osso, arriva il t-rex, lo mangia e tanti saluti al cattivo che è un deficiente! E... Vabbè... Come finisce il film? Loro che se ne vanno via in macchina, Owen, Claire e la bambina, in realtà Owen e Claire si saranno rimessi di nuovo insieme... E cosa succede? Vediamo vari dinosauri che vanno in giro, a quel punto vediamo Blue che arriva su una collina sopra questa città incredibile, immensa, e guarda la città. Hai presente? Tu che apri la porta ti trovi un veloci raptor davanti alla porta di casa. La porca puttana, troie! Il problema di questo film è che ce l'aveva quasi fatta, mi aveva divertito, era stato abbastanza bello, bisogna dire la verità, e poi arriva sto cazzo di finale di merda che fa veramente cagare, che potevano evitarsi completamente! Quasi, peccato! Comunque la mia recensione non è neanche così negativa, al voto non sei più con il 6,25, quindi va visto, secondo me va visto. Quindi questo era quello che ho messo riguardo a Jurassic World, il regno distrutto. Se vi è piaciuto, volete dirmelo magari in un commento, ditemelo, se no fatevi cazzi vostri come al solito, che vi voglio bene lo stesso, grazie per ascoltarmi. Siamo in 102 adesso, quindi noi ci vediamo in una prossima recensione che non sarà giurassica, vediamo che minchiata faranno per Jurassic World 3.